Salvatore Mazza, che mi racconti a proposito di amore e di sentimenti? Amore e sentimenti, amore e sentimenti per due città. Un napoletano che si trasferisce a Roma, no? E allora succedono di tutto a Napoli e a Roma. Napoli, arriva James Bond, sta per girare il nuovo film. Si presenta al primo napoletano e fa My name Bond, James Bond. E il napoletano fa My name Sepp, Giù, Sepp. Vai, 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 ma sì, sì. Ah, Roma, Roma, Roma. E allora due amiche che si incontrano, Paola, dice come va bene, ma tuo marito? Niente, mio marito non mi sfiora più da due anni. Ma fai come me, ma ti dico che devi fare, tu vai a casa, gli prepari una bella gricia, ti fai un bello, un bello, una bella pettinatura, ti metti un bel reggiseno sensuale, ma soprattutto quando andrai alla porta di casa, devi avere una mascherina, perché lui vede la mascherina, e vede il sentimento, vede l'intrico, la passione, ti salterà addosso e farete l'amore. Allora la moglie così fa, arriva a casa, prepara la gricia, va dal parrucchiere, si fa bella, si mette tutta carina, bussa il marito, dimmi marito! Ah, la mascherina, si mette la mascherina, apre la porta e dice amo, e il marito azzoro, che si mangia stasera? Bene, grazie, grazie. Dimmi pure. Ah, continuo, sì, continuo, no, e questo succede sul Napoli-Roma, capito? Questo è l'amore che uno ha per due città, due città, un mito, una leggenda, ti capi? Bene, benissimo. Grazie a te Paola. Una similitudine pazzesca. Grazie a te Paola.